Benvenuto alla Taverna Friuli Wines Il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia Sono Wayne Young, l'Ost Salve amici divini friulani, sono Wayne Young Benvenuti, bentornati a la Taverna Friuli Wines Dopo una breve pausa, una pausa di Pasqua, di Pasquetta Come avete passato queste feste? Qui in Friuli Pasquetta era terribile, solo acqua, acqua, acqua Però un periodo pieno di notizie, sfortunatamente notizie non troppo belle La scomparsa di Piero Pitaro, ad 89 anni, ex presidente internazionale dei assenologi E titolari di Vignetti Pitaro Di cui abbiamo avuto Stefano Trinco, l'enologo, come ospite qui sulla Taverna Però più recente abbiamo perso Marco Felluga Marco Felluga, russi superiore Fratello di Livio Felluga Padre di Roberto Felluga Che è scomparso nel 2021 È difficile capire che tutti questi pilastri dell'enologia friulano Anche l'anno scorso Girolamo d'Origo abbiamo perso Condolenze a tutte le famiglie Soprattutto a Ilaria Felluga La nipote di Marco, figlia di Roberto Che ho visto veramente soffrente Però speriamo che Passa velocemente questo periodo doloroso Per la scomparsa del nonno Sono rimaste pochi di questi pilastri Questi pionieri del viticoltura friulana Però ho tantissimo fiducia Nelle nuove generazioni Nei figli, nei nipoti Di portare avanti la cultura Del vino Qui nel Friuli Venezia Giulia Abbiamo un ospite oggi molto molto interessante Levinia Zammaro La direttrice del Consorzio Coglio Una bella conversazione del presente, passato, futuro Del Consorzio del Coglio Le sfide internazionali di Coglio E il mercato E i vini Una persona veramente in gamba Allora ti lascio adesso con questa Conversazione con Levinia Zammaro Del Consorzio di Coglio Ok, siamo qui Nella Tasting Academy di Coglio Orientale Con La Presidente del Consorzio di Coglio Questa è una, non lo so I mondi che fanno questa collisione Correggimi la vigna Direttrice Direttrice, scusami Direttrice del Consorzio di Coglio Lavinia Lavinia Zammaro Zammaro Ok, non Zammaro Zammaro Si sentì subito i miei problemi con l'italiano Subito Levinia, grazie tantissimo per essere qui Noi non ci conosciamo praticamente Oggi è la prima volta che siamo visti faccia a faccia Abbiamo scambiato dei messaggi via telefono Però, prima volta che siamo incontrati in persona Allora, ricontami un pochino Il tuo percorso Verso questa posizione importante Nel Consorzio di Coglio È vero Wayne È la prima volta che ci incontriamo di persona Anche se ci siamo incrociati Svariate volte sui social O per eventi Insomma che magari Ci hanno visti entrambi partecipare Mi fa molto piacere essere qua E il mio arrivo al Consorzio Coglio Diciamo che è stato uno dei casi della vita Perché la mia provenienza La mia istruzione è di ambito completamente diverso Io ho studiato Ingegneria Ambientale Ok E quindi ho lavorato come ingegnere Per un bel po' di anni dopo la laurea E poi per i vari casi della vita Ci si è presentata questa opportunità In Consorzio Coglio Nel 2020 Per cui insomma ho iniziato Proprio il tempismo perfetto Il 2020 Proprio anni d'oro In pieno Covid Wow Che per certi versi è andato anche bene Perché ho avuto modo di ambientarmi In questa realtà In questo mondo che conoscevo come utente Come appassionata In quanto appunto io abito a Cormons Quindi è un mondo che ho sempre vissuto E sempre amato Ok E che avrei sempre voluto anche affrontare Imparare a conoscere dal punto di vista lavorativo E professionale L'occasione si è presentata lì E quindi appunto Avedo anche questi mesi difficili per tutti C'è stato un modo di imparare a conoscere Un po' con più calma Rispetto ai tempi normali Insomma Di una professione di un mondo Che marcia molto molto velocemente E allora il tuo Tu hai detto che sei di Cormons Sempre stato di Cormons No Sono nata all'estero Ah ok Io ho origini canadesi Sono nata in Canada Ma dai Allora possiamo parlare inglese? If you wish No Facciamo un italiano Ripensiamo Se sapevo questo Forse ho chiesto di fare qualcosa in inglese Ma adesso che l'abbiamo cominciato in italiano Continuiamo in italiano Non lo so Forse facciamo una doppia puntata La prossima volta Possiamo pensare di qualcosa in inglese Perché onestamente devo dire che ho cominciato questo podcast Facendo solo in inglese Una puntata al mese in italiano E adesso è più o meno la posto Una puntata al mese in inglese Allora mi piacerebbe fare più Più puntate in inglese Comunque Allora Nato in Canada Scusa Nata in Canada E cosa ti ha portato qui? La famiglia Perché la mia famiglia è originaria di qua Ok I miei genitori sono emigrati in Canada Alla fine degli anni 70 Ok Come tante persone che dal fiuli sono andate via Toronto Edmonton Edmonton Ok E quindi appunto io sono nata là Poi intorno agli anni 90 Siamo rientrati per questioni di famiglia Insomma ho preferito rientrare Per cui poi la gran parte della mia vita Comunque si è sviluppata qui in Friuli E a Cormons E' stato difficile per te questo rientro? Non è stato difficile da un punto di vista concreto Perché comunque ero piccola Avevo sei anni quando sono rientrata Quindi tutto il mio percorso scolastico Poi si è svolto in Italia A livello emotivo Diciamo che si è sempre un po' divisi Fra le due realtà Rimane sempre comunque un attaccamento A quella che è la nazione d'origine Ok Che insomma non avendo la possibilità di andarci così spesso Rimane un po' sempre questa nostalgia Ho avuto una bella opportunità alle scuole superiori Perché ho preso il diploma in Canada Ho fatto un anno di scuola là Quindi insomma Ok ok Abbiamo un modo di mantenere il rapporto Sei più o meno come me ovviamente Molto più giovane quando sei arrivato Però hai un piede in quel mondo Un piede in questo mondo qua E tu riesci a capire bene Che ovunque tu sia Ti manca sempre una parte Infatti Perché anche se dovessi ritornare là Comunque gran parte della tua vita adesso è qui E quindi sei sempre un po' torn Come si dice in inglese Esatto In Italia Con mia ragazza Che adesso è mia moglie E dopo il resto Soprattutto le feste L'estate Quando non c'era tanto da fare qui Negli Stati Uniti E allora è stato un periodo bello Perché io ricordo che C'era sempre questa cosa Arriva Caricato Sono tornando a casa Sto tornando in Italia E dopo un periodo si dice Mi piacerebbe tornare dall'altra parte E c'era tempo di spostare Allora è bello di avere Quel stimolo di andare su E giù E allora sì La nostalgia di tornare C'è sempre C'è sempre Bello E il tuo percorso nel mondo di vino Allora ingegnere Completamente diverso Sì Ma hai lavorato in qualche modo Nell'ambito di vino No assolutamente no Io progettavo impianti fotovoltaici Wow Ok E appunto il mondo del vino Era un mondo nel quale mi sarebbe Sempre piaciuto inserirmi Ci stavo pensando già da tempo E' capitata questa opportunità In consorzio Coglio Appunto nel 2020 Ok Banalmente per la sostituzione Di una collega Che era in maternità Ok Per cui ho iniziato appunto Seguendo la parte di segreteria La parte di promozione Poi pian pianino Le cose si sono evolute Ok Bene Bene Allora Crescendo nell'ambito di un posto Per vino importante Come Cormones Ovviamente Vino è stato Parte della tua cultura Da sei anni ovviamente Quando ti diventa Più grande C'è sempre questa Allora Tu hai delle memorie Forse Crescendo Dei vini O delle visite O delle degustazioni Che l'hai fatto Che non lo so Che tu ricordi Particolarmente Che ha attrato Verso il mondo del vino Guarda Io mi ricordo Che quando io ero bambina E appunto Eravamo appena rientrati Negli anni In cui ancora Questo In parte Si poteva fare I miei genitori Andavano a vendemmiare Da produttori Insomma Della zona Io avevo sei anni E quindi mi ricordo Queste giornate Passate in vigna In cui provavamo Magari anche A raccogliere Qualche grappolo Insomma Si viveva La vendemmia In un modo Molto gioioso Come è normale Che sia Anche la vendemmia Insomma È un momento di festa Per le aziende Però Dalla prospettiva Di un bambino Insomma Era proprio Un'occasione Di gioia Di festa Di comunità Mangiare ufa Mangiare ufa Esatto Il vino A quell'epoca Insomma Ancora no Perché ovviamente Ero piccola Certo Però questi sono I ricordi più Più lontani Ecco E ciò nonostante Più vividi Che io Rispetto appunto Al contatto Con il mondo del vino Poi Crescendo Insomma Si impara un po' A scoprire A conoscere Ad assaggiare Però devo dirti La verità Io Ho veramente Iniziato A acquisire Competenze E conoscenza Anche Più Tecnica E più rigorosa Nel momento in cui Ho iniziato a lavorarci Fino a prima L'ho sempre vissuto Come un appassionato Ma marginalmente Ok Allora tu non hai Questo background Di Non lo so Hai sommelier L'ho fatto L'ho fatto Dopo che ho iniziato A lavorare In Coglio Oh quando l'hai fatto Ok Quando hai cominciato lì Allora non prima No E allora veramente Una svolta Della vita Un cambiamento Di vita Sì Puoi raccontare Come mai è arrivato A te Questa opportunità Hai detto Una collega In maternità In maternità Sì Di una figura Di una figura Che conoscesse L'inglese E mi hanno detto Magari se ti interessa Prova a mandare Il curriculum Ho fatto un colloquio E così è andata Fantastico Per cui appunto Ho iniziato Con un contratto Temporaneo Per la sostituzione Di maternità Che poi è stato Prorogato Rinnovato Evidentemente Le cose poi Hanno funzionato Per tutti Se siamo ancora qua A parlarne Ok E allora In questo tempo Da quando hai cominciato Di essere direttrice Di lavorare In consorzio Ci sono Qualche Tipi di vino Qualche Stile di vino Che tu sei innamorato Ovviamente Collio Per primo Ma forse C'è qualche Non lo so Friulano Pino bianco Qualcosa che ti ha Non lo so Colpito Quando hai cominciato Di entrare In questo mondo Del vino Guarda Io devo dirti La verità E forse Un po' Per la conoscenza Un po' Penso anche Per l'evoluzione Del gusto Che viene Con l'esperienza E con l'età Ovviamente I miei gusti Sono cambiati Per quanto riguarda I vini E con l'andare Del tempo Ho iniziato Ad apprezzare Particolarmente Gli autoctoni In modo particolare Il friulano Il friulano Il friulano Mi appassiona Dai E Allo stesso tempo Il collio bianco Che per me È il vino del cuore Collio bianco Perché mi piace Sì Perché mi piace Proprio Scoprire Diversi stili Diversi Le diverse firme Delle aziende Insomma Il tocco personale Che ogni azienda Dà In questa opportunità Che il collio bianco Fornisce Ok Allora parliamo un po' Del tuo ruolo Cosa consiste La tua posizione Come direttrice Del consorzio Di collio Cosa sarebbe Una giornata Tipica Per te Diciamo che Non c'è una giornata Tipica Dipende molto Dalle cose Che abbiamo in piedi In quel momento Io Al momento Sto Faccio un po' Da Da volto Del consorzio Nelle attività Nelle Nelle Di promozione Per cui Quando noi Andiamo a promuovere A fare delle attività Soprattutto all'estero Fuori sede Generalmente Se si tratta Di attività Esclusivamente istituzionali E a livello consortile Sono io Che rappresento Il consorzio Poi cerchiamo Nella maggior parte Delle occasioni Quando ce n'è la possibilità E l'occasione Si presta Comunque Di Mandare Insomma Di presentare Le aziende Con il volto Del produttore Per cui Ad esempio In un'attività nostra Che è il collio day Che si porta avanti Da tantissimi anni Il collio day Ci teniamo molto Che ci siano i produttori Presenti Che sia un'attività In cui possono essere Loro con la loro viva voce A raccontare il territorio A raccontare i vini In altre occasioni Come appunto Ad esempio Quella che abbiamo In programma La prossima settimana A Londra Che sono delle attività Istituzionali In cui si va a presentare Il territorio La denominazione Invece ci vado io Ok Quindi questo per quanto riguarda La parte promozionale E questo è sempre il collio day No Questo che facciamo A Londra Si intitola Discovering Collio Ed è un'attività Che abbiamo Organizzato Insieme alla UK Sommelier Association È la prima volta Che la facciamo Oh bello Bello Parliamo un po' di collio day Perché secondo me Ci sono delle persone Che non sanno Che cos'è collio day Io l'ho sentito E mi vergogno Che non sono mai partecipato Però parliamo un po' Di questo evento Perché dice che È un po' di anni Che va avanti È molti anni Che va avanti Collio day È una Bellissima iniziativa Che noi Organizziamo Insieme ad AIS E fondamentalmente Il titolo completo È collio day E l'Italia Si tinge di giallo Quindi si tratta Di una degustazione In contemporanea In tutte le sedi AIS D'Italia Che desiderano partecipare Quindi noi Coinvolgiamo appunto L'associazione Di anno in anno Ci sono diverse delegazioni Che aderiscono E gli scorsi anni Abbiamo avuto 12-14 delegazioni In contemporanea La degusta Si svolge Una degustazione Su generalmente 6-8 vini Che poi noi Annualmente Scegliamo Ogni delegazione Ha le stesse varietà Con aziende diverse Con etichette diverse E in ogni delegazione È presente Almeno un produttore Le degustazioni Poi sono aperte A soci Corsisti Simpatizzanti Poi è la delegazione A decidere Se la vuole aprire Al pubblico Se vuole riservarla Magari ad una Certa fascia Dei propri associati E i nostri produttori Sono presenti Appunto Per parlare Di territorio Di varietà Di varietà Di denominazione Dei vini E confrontarsi Con i presenti Per far scoprire Insomma L'Italia Il nostro territorio Molto bello Molto bello Quando si presenta Coglio Come un territorio Come si inizia La conversazione Di una persona Che forse Non capisce Che cos'è Coglio Forse hanno sentito Il nome Però non capiscono Bene Che cos'è Come si presenta Coglio Al mondo Intanto si comincia Con lo spiegare Dove siamo Perché non è Sembra banale Scontato Ma non lo è affatto Infatti Già Soprattutto se si va All'estero Già a parlare Di Friuli Venezia Giulia Bisogna a volte Spiegare esattamente Dove siamo Innanzitutto Si inquadra Il contesto geografico E poi Si racconta Il Coglio Come appunto Territorio Territorio di confine Con una storia Molto particolare Alle spalle Detata dalle Due grandi guerre Che hanno colpito Il territorio In modo Insomma importante E si parla Di clima Della vicinanza Delle montagne Della vicinanza Del mare Dei venti Che soffiano Costantemente Quindi di questi Microclimi Che si creano In uno spazio Seppur piccolo Perché insomma Il Coglio Ha 7000 ettari In totale Come territorio Quindi uno spazio Molto piccolo In cui però Vediamo Generarsi Di microclimi Anche nettamente Diversi Per certi aspetti Certo E si parla Di ponca Che è la grande Regina del nostro Territorio Uno degli aspetti Principali Per cui riusciamo Di ottenere I vini Che otteniamo E poi si parla Se entra Nei dettagli Di varietà Quantità Produzione Eccetera E come si vede La reazione Dal pubblico Soprattutto All'estero Che tu Ovviamente Che hai Questo Dono Di avere Inglese Come madrelingua O almeno Come co-lingua Originale Tua Il pubblico Quando si comincia A spiegare Un po' Il mondo Di coglio Cos'è il feedback Che si sente Delle persone Io penso Che raccontare Il coglio Soprattutto Se il racconto Arriva da una persona Che appartiene A questa terra Crea sempre Grande emozione In chi lo ascolta Perché appunto È un territorio Che è ricco Di storia Ma la storia Non è È una cosa Che noi abbiamo Studiato Sui libri È una cosa Che anche se Magari Apparteniamo A generazioni Che quella storia Non l'hanno vissuta Direttamente Perché non erano Presenti È comunque Una storia Che fa parte Del nostro DNA È come se ci venisse Trasmessa nei geni Quindi tu la senti Tu anche se Non l'hai vissuta Direttamente Anche se l'hai Scoperta solo Appunto Dallo studio O dai racconti E quindi Quando questo Viene raccontato Lo si trasmette Con talmente Tanta passione Che Chi ascolta Si emoziona Riesce veramente A entrare in sintonia In empatia A connettersi Con il racconto E ha quasi La sensazione Di ritrovarsi In quel territorio Quando poi Si fanno assaggiare I vini Sono sempre Devo dire Che è sempre Bello per noi È sempre sorprendente Per noi Vedere Lo stupore La sorpresa La sorpresa Delle persone Che magari Non li conoscono E che trovano Dei vini Di qualità Eccellente Che magari Non si aspettavano O di chi Li ha assaggiati A casa propria E li viene Ad assaggiare qui E riscopre Delle cose nuove Perché Assaggiarli Insomma Nel contesto Crea Un'emozione Diversa Quindi È sempre Bello Andare in giro Per l'Italia Per il mondo A raccontare La propria terra Penso La cosa più bella Che uno possa fare Nella vita Una conquista Riuscire a farlo È una gran fortuna Fantastico Ma ovviamente Quando si va in giro Il primo Messaggio Di promuovere Codio Questo è ovviamente Il tuo lavoro Però Hai detto anche prima Spesso è anche difficile Comunicare Dov'è Friuli Venezia Giulia Allora tu prendi Anche questa responsabilità Di promuovere La regione In totale O concentra Completamente Su Codio Ma guarda Io penso Che la regione Friuli Venezia Giulia Sia una Briciolina Nel contesto Mondiale Certo Quindi Sia quando si è in Italia Sia soprattutto Quando si è all'estero Ognuno di noi Che tentiamo Di fare Questo lavoro Di comunicare Il vino Ha la responsabilità Di parlare Comunque Della nostra regione Ok A livello poi Diciamo istituzionale Lavorativo Noi comunque Abbiamo una collaborazione Molto stretta Con la regione Con Promoturismo Con il board Enogastronomia Di cui fanno parte Tante eccellenze Enogastronomiche Della regione Della regione Quindi cerchiamo sempre Comunque tutti quanti Di portare avanti Ovviamente Il nostro interesse Contestualizzandolo Ed inserendolo Nel contesto Della regione Ok Perché io Credo fermamente Che in un territorio Come il nostro Con la dimensione Che noi abbiamo Il numero di eccellenze Che noi abbiamo In una regione Così piccola Non possiamo pensare Di farci la guerra L'uno con l'altro Cioè possiamo vincere Solo ed esclusivamente Se facciamo Un fronte comune E se parliamo Della regione E di quanto è bella E di quanto vale Di quanto è prezioso Tutto ciò Che noi possiamo offrire Assolutamente Ed è fuori Dell'Italia Ma possiamo Forse parlare Anche dentro l'Italia Però Quando fai Questi viaggi Di promozioni Dove si vede Il più entusiasmo Per i vini del Collio Fuori nel mondo Dove hai Non lo so Forse hanno percepito Meglio Il messaggio Nei mercati Stati Uniti O Londra O Giappone Dove hai visto Il più Mercato più entusiasta Per i vini del Collio Ma allora Io sono stata Molto molto colpita Dai feedback Che ho avuto Da alcuni canadesi Lo scorso anno Che sono venuti qua Forse perché Diciamo che Nel Regno Unito E negli Stati Uniti C'è una presenza Seppur piccola Ma c'è una presenza Di vini Sia friulani Che nello specifico Di vini del Collio Sul mercato Non è Ovviamente Non abbiamo i volumi Che possono avere Altre regioni Vitivinicole europee Però esiste Quindi chi è Un giornalista Un esperto del settore Diciamo che Li conosce O comunque ha avuto Modo già Di entrare in contatto In Canada In Canada Questo ancora Non è stato Implementato Così Quindi per loro È stata quasi Una nuova scoperta Era una cosa Che conoscevano Veramente Poco Per cui avere L'occasione Di venire qui Di fare dei tasting Di vedere il territorio È stata Un'occasione Abbastanza Unica E nuova E l'interesse Che io ho riscontrato Anche da parte Della stampa Perché poi noi Principalmente Ci interfacciamo Con la stampa Ma anche L'interesse Nel creare Delle opportunità Per il nostro territorio Di mettere Un piccolo piedino Nella realtà Canadese Nel mercato Canadese È stata Una cosa Molto Molto importante Ho riscontrato Grande entusiasmo Per la scoperta Del nostro territorio Il Canada È un mercato Particolare Perché Mi sembra È sempre Controllato Dallo Stato Allora Devi sempre Fare questo Transito Tramite lo Stato Con il CBO O quello che ci serve E forse Per quello C'è un po' Meno Accesso Meno Possibilità Di trovare Dei nuovi Allora Per te È un'opportunità Molto importante Sì È una cosa Sulla quale Appunto Stiamo ragionando Anche come Consorzio Per il futuro Perché effettivamente Potrebbe creare Un'opportunità Anche per le aziende Riuscire Insomma Creare interesse Nei confronti Dei nostri vini Poi potrebbe Potrebbe magari Aiutare Ad aprire Qualche nuova strada E altri mercati Diciamo Forse più storici Come Austria Come Germania Sono sempre Alleati Sono sempre Mercati Importati Per Codio O forse Forse loro Hanno Hanno fatto Un shift Verso Lugada Un pochino Sì Insomma Non neghiamo L'evidenza Sicuramente Sì Però rimane Comunque L'Austria E la Germania Rimangono Comunque Uno fra i primi Se non il primo Mercato estero Per le nostre aziende Più degli Stati Uniti Sì Sì Assolutamente Anche perché Sai comunque Per riuscire ad esportare Riuscire ad esportare Negli Stati Uniti Non è semplicissimo Anche a livello Di quantitativi Le aziende del Codio Sono comunque Tutte tendenzialmente Di dimensioni contenute Quindi la Capacità produttiva Non sempre consente Di affacciarsi A un mercato Che poi Ha una richiesta In termini quantitativi Di prodotto Che potrebbe Per alcuni Non essere sostenibile Quindi diciamo Che Parlando In linea generale Insomma Generalizzando Senza entrare Nello specifico Di numeri percentuali Comunque Il mercato Dell'Austria Della Germania E del nord Europa Rimangono I mercati Tra i mercati principali E questo Questo è più Verso I turisti Che vengono In Codio E comprare Direttamente O c'è anche Un mercato Di esportare Entrambe Entrambe Ci sono comunque I contatti diretti Con i ristoranti Che le nostre aziende Hanno Per cui appunto Ci sono le esportazioni Verso I loro clienti Storici E c'è anche La parte di turismo Che continua a venire In Friuli Venezia Giulia Certo E che quindi Poi passa In questo rispetto In questo rispetto Allora C'è Ci sono Tanti investimenti Io vedo Che le aziende Stanno investendo Molto In questo Sia in termini Di ospitalità Proprio Di posti Letto Banalmente Perché ci sono Tante aziende Che hanno investito Recentemente O che stanno investendo Che hanno un progetto Di farlo Per creare O implementare Strutture Ricettive E c'è anche Un grande interesse E conseguenti Investimenti Progettualità Per quanto riguarda L'accoglienza Magari anche Quotidiana Del turismo Attraverso Le e-bike Attraverso Percorsi Magari Di degustazione Offerte Di accoglienza In azienda Per esperienze Particolari Comunque Diciamo Il turismo È uno dei core business Della nostra regione Certo E le aziende Di questo Sono perfettamente Al corrente E c'è La progettualità Di realizzare Investimenti Anche su questo Torniamo un po' Di questo concetto Dei produttori Piccoli Perché Questa Potrebbe essere Una sfida Ma anche Un'opportunità Come si vede Quest'idea Del Piccoli Produttori In coglia E come possono Affrontare Delle sfide Nel mercato Mondiale Perché Ha detto Ovviamente Un piccolo Produttore Ha un problema Di affrontare Un mercato Grande Come New York O come San Francisco O qualcosa Solo perché Non riescono A soddisfare Una richiesta Come si può Come un piccolo Produttore Affrontare Queste cose E cose E cose Sono I vantaggi Di essere Piccolo Allora Su come si può Affrontare Io ti dico Quello che Più che come un produttore Lo può affrontare Perché non sono un produttore E non voglio Sostituirmi Alla voce Dei produttori In alcun modo Io ti posso dire Quello che noi Come consorzio Come territorio Possiamo E cerchiamo Di fare Ovvero Dare l'opportunità Anche alle aziende Che singolarmente Per questioni Banalmente Economiche Burocratiche Non potrebbero Presentarsi In determinati Mercati O comunque In determinati Territori Noi Possiamo Cerchiamo Di creare Le opportunità Per essere presenti Per presentare Il proprio vino Per parlare Anche semplicemente Della denominazione Perché comunque Parlare Far conoscere La denominazione Far conoscere I vini Ed accoglio A prescindere Dall'azienda Crea un volano Che poi Si ripercuote Su tutto il territorio A mio parere Se il brand Collio Si riposiziona Sul mercato Statunitense Questo porta Comunque Un arricchimento Un guadagno A tutte le aziende Non esclusivamente A quelle cinque etichette Che magari Noi abbiamo potuto Portare In un masterclass Ok E per quanto riguarda Le difficoltà Sì Diciamo che appunto Le realtà aziendali Più comuni Più diffuse Nel nostro territorio Che sono realtà Piccole Forse gli ostacoli Le sfide più grandi Con cui loro si devono interfacciare Sono nella vita quotidiana Nel senso che Per la maggior parte Sono aziende Conduzione familiare In cui c'è il nucleo familiare Che lavora in azienda E quale si occupa Della campagna Della cantina Della vinificazione Della burocrazia Della Della amministrazione Della accoglienza Quindi ci sono tantissimi Possibile insomma Di dare supporto Chiaramente non per la parte Amministrativa Perché poi Quella è una parte Che ovviamente Le aziende Devono seguire Singolarmente Certo Però noi cerchiamo Di creare Delle opportunità Per loro Per semplificare Certi aspetti Magari a volte Anche andando Sovraccaricare Perché ricevono Tonnellate di comunicazione Per partecipare A eventi di promozione Quindi andiamo A sovraccaricare Il loro lavoro D'ufficio Però sono comunque Sempre delle opportunità Opportunità magari Appunto di essere presenti In certe città O in certi stati Dove da soli Non riuscirebbero ad essere Opportunità per dare assistenza Dal punto di vista tecnico Noi abbiamo dei consulenti Del servizio viticolo Che lavorano per il consorzio Insomma Fanno dei consulenti Per il consorzio E sono a disposizione Delle aziende All'occorrenza Ok Una cosa che abbiamo implementato Che è iniziata nel 2021 Che abbiamo implementato Ad esempio È l'ottenimento Della certificazione SQNP Ok Certificazione di sostenibilità Ambientale Che abbiamo iniziato A fare come organismo associato Ok Quindi abbiamo iniziato Nel 2021 Con 13 aziende Nel 2024 Dovrebbero essere 27 Bello Quindi insomma C'è una grande crescita In numero Ci sono tante aziende Che hanno iniziato a farlo Nel momento in cui È arrivata la proposta Dal consorzio Ci sono altre aziende Che lo facevano singolarmente E che hanno colto L'opportunità Di associarsi Perché magari Gli semplifica un po' La parte pratica Burocratica Quindi insomma Noi cerchiamo Per quel che si può Di creare Delle opportunità Anche per l'azienda Per semplificare Alcuni aspetti Ovviamente Nella misura Di quelle che poi Sono le competenze Di ciascuno Parliamo un po' Del Colio Come sua posizione Nel mercato Diciamo mondiale Soprattutto per i vini bianchi E quando parliamo Di vini rossi Ho anche una Come si dice in inglese A bone to pick Con colio Comunque Parliamo prima di questo Perché Io ricordo che C'era un periodo Forse Quando sono appena Arrivato qui Un po' prima Un po' dopo Quando colio Era proprio Sulla punta Della montagna Quando si parla Di vini bianchi Italiani Nel mondo E abbiamo un po' Perso Un po' Quella posizione Di punta E allora Secondo te Che cosa Un contribuito Di questo Proprio diciamo Un piccolo Slitta Della posizione E come possiamo Riconquistare Questo Questo podio Sul mondo del vino Come si possiamo Muovere Per ritornare Di quei Ani d'oro Allora Partiamo dal presupposto Che quando si va In giro per il mondo E si parla di colio Si vede un bollino giallo Il brand è ancora Molto forte Molto forte E molto riconosciuto Quindi Così tanto forte Che spesso Quando si parla Di colio orientale Si chiama colio Questo è anche Un problema Di comunicazione Di formazione Di chi Di chi poi All'estero Comunica Sul quale Bisognerebbe Cercare Noi stiamo già Cercando di lavorarci Chiaramente Insomma Ci vuole del tempo Ci vuole molto impegno Però sì Assolutamente Insomma Le informazioni Devono essere date In modo corretto E deve essere chiaro Chi è cosa Non perché Appunto Come si diceva prima Dobbiamo farci La guerra Perché è giusto Che le cose Insomma Vengano chiamate Con il proprio nome Nel rispetto Del lavoro Di tutto Quindi sì Ti dicevo Il brand colio È ancora Molto riconosciuto È vero Quello che tu dici A mio parere Questo è stato dovuto Da Una serie di fattori Da una parte Perché Per tanti motivi Forse il territorio Non ha più spinto Sull'acceleratore Come Come si faceva Una volta Quindi magari Arrivati a certi risultati E arrivati Alla consapevolezza Insomma Del fatto che I vini erano Ben conosciuti E ben posizionati Per valutazioni O per altre priorità Si è ritenuto Di spingere Magari di meno Ok E quindi questo In parte E contemporaneamente Tanti altri Invece Hanno ingranato Una nuova marcia Ok Quindi la combinazione Di queste due cose Forse ha fatto sì Che Ci sia Una percezione Di un territorio Un po' fermo Nell'ultimo decennio Quello che un po' Si sente anche Al di fuori È questa percezione Di un collio Che È rimasto un po' Statico Che non è vero Non è vero Semplicemente Non è stato comunicato Per esempio Che cos'è Il dinamicismo Il dinamico Del collio Che forse È stato un po' Sotto il radar Che le persone Forse non hanno Percepito Cosa ha cambiato Cosa c'è il movimento In Caorio Che le persone Devono capire È tutto ciò Che ci siamo detti Fino a prima Quindi gli investimenti Delle aziende Per rinnovarsi Per implementare L'accoglienza Per implementare L'offerta Al turista Ma anche Per rinnovarsi E per migliorare Sempre dal punto di vista Tecnico Comunque Un cambio generazionale Che è già iniziato Un po' di anni fa E che Si sta Portando avanti Adesso Insomma Che nel giro Di 10-15 anni Sarà un grosso cambio Anche ai vertici Insomma Delle aziende Diciamo che Ecco Forse Il problema Il nodo Non è bello Usare la parola problema È stato che Ripeto Per tanti aspetti diversi Per tante cose Che ciclicamente Possono accadere In un organismo Non si è ritenuto Di comunicare In modo così Esplicito Tutte queste cose Che stavano Continuando a succedere Ok Allora c'era questo Non lo so Diciamo che Ok Siamo arrivati Siamo Siamo In questo livello Che sappiamo Che siamo bravi Allora Fermiamo qua Diciamo ok Non dobbiamo Spingere più Invece Dal dietro Arrivato Queste altre aziende Altri vini Che Forse sono un po' Accelerato E noi In cruise control No? Siamo stati superati Stai dicendo quello Sì sì Io non credo Che sia stata Una scelta deliberata Il fatto di non comunicare O che si sia detto Bene siamo arrivati E quindi non ci interessa Più spingere Penso che ciclicamente Appunto in un consorzio Così come in un'azienda Ci siano poi anche Delle altre priorità Degli altri aspetti Che magari in precedenza Sono stati messi In secondo piano Questo è dedicato A meno attenzione Che si fanno priorità E che quindi Vanno affrontati In un territorio In una realtà Come la nostra Che è comunque Una realtà piccola Come si diceva prima Fatta da aziende piccole In cui le forze Sono limitate Non sempre si riesce A seguire tutto Al cento per cento A volte bisogna Si divide un po' le forze Esatto Divide le forze Dare delle priorità E quindi magari In certi periodi Della storia Porre più attenzione Su alcuni aspetti E inevitabilmente Altri aspetti Magari vengono un po' Tralasciati O non seguiti Con così tanta Attenzione Solerzia C'è un aspetto Dello stile Dei vini Di Corio Che forse Anche aveva Una mano Un effetto Sul mercato Perché Mi pare che Quando si parla Di vini bianchi Adesso tutti cercano Più freschezza Meno alcol Adesso stiamo parlando Anche di questi vini Diacolizzati Che non capisco Neanche E Corio È conosciuto Per i vini Veramente Muscolosi Come si parla Di bianchi Allora Questo shift Verso un altro stile Aveva un suo effetto Anche Anche Sì E come si può Contrastare Quel shift Nel mercato Facendo conoscere Facendo capire Perché I nostri vini Sono in questo modo Facendo capire Che Non sono Vini fatti così Perché Decidiamo di farli così Ma perché È il territorio Che ci regala questo È il clima Che ci regala questo O che ci pone Questo davanti In alcuni casi Prendono sempre Un vantaggio A volte È anche una sfida Sì Attraverso la conoscenza Banalmente Educazione Educazione Poi è chiaro che I gusti I mercati Le mode Questi Ci saranno sempre Io non credo Che un territorio Debba pensare Di cambiare Il proprio stile Di fare vini Perché il mercato Lo chiede E questa è una cosa Su cui Il nostro territorio È molto forte È una cosa Della quale Ritengo Dobbiamo essere Molto orgogliosi È il fatto Di rimanere fedeli A se stessi Quindi di non farsi Pur Ovviamente Nell'adattamento Alla storia Però rimanere Dal punto di vista Appunto Dello stile Sempre Con una fedeltà Alle radici Certo Di quello che è Che sono i nostri vini Che derivano Dal nostro territorio Questo perché Sono dei prodotti Genuini Perché È il territorio È la terra È la punca Che ci regala questo E sono i nostri produttori Che riescono a renderlo eccellente Non sono Non è un prodotto Che viene costruito Certo Certo Io ho sempre detto Che Per me Quando si parla Di successo Nel lungo termine Le aziende Parliamo di aziende Però possiamo Anche parlare Di territorio Le aziende Con più successo Sono quelle Che hanno Trovato Un stile Una strada Un marchio Una nicchia Si può dire Anche quello E stai lì E fai quel tipo di vino E non smettere mai Non vai Dove si Va il vento Perché Adesso vogliono Pinot Grigio Adesso vogliono Questo No Io faccio questi vini E vado avanti E sicuramente Ci saranno Dei momenti Difficili Però tornerà Sempre le persone Che cercano Quel vino Lì E allora Secondo te Io sono d'accordo Con questo Che non significa Andare avanti Con il paraocchio E non vedere Che cosa succede Intorno La grande sfida È proprio questa Il fatto di essere Consapevoli Di quella che è La richiesta Del mercato Di quella che è Magari anche La moda Più o meno Fugace Del momento E riuscire In qualche modo Ad andare incontro Pur rimanendo fedeli Certo Alla proprio Al proprio stile C'è un modo Che voi avete O non lo so Che tu puoi pensare Dove I produttori O il consorzio Va fuori A confrontarsi Con Delle altre Zone Stile Del vino Almeno In Italia O forse Anche mondiale C'è C'è Questa Lungimiranza Per dire Ok Noi siamo Corio Però Cosa stanno Facendo Lì Che forse Hanno un po' Di successo Beh Questo Sarebbe molto Bello Riuscire a farlo Attraverso Insomma Il confronto Attraverso Magari Non so Delle visite In altri territori Delle degustazioni Parallele Dei confronti Fra Consorzi Fra aziende Questo sarebbe Molto bello Facciamo una cosa Dove portiamo Dentro Vini Dall'Alsazio Di Alto Adige Di Chablito Mettiamo Tutti insieme Alla cecca E diciamo Ok Insieme Con i vini Del Corio E in questo modo Possiamo dire Ok Ovviamente Non per cambiare Completamente Stile Però Per Avere Più conoscenza Secondo me Ogni tanto E non sto parlando Di colio Sto parlando Di friuli Tendiamo Di chiudersi Dentro E dice Questo è il mio vino Il mio vino È un grande vino Allora vado avanti Però invece Si vede Che forse Il mondo In giro C'è un'evoluzione Che non Riesce a capire Parliamo Torniamo Del concetto Del colio bianco Perché Mi sembra Che ci sono Due mondi Di colio bianco Adesso C'è Il tradizionale Colio bianco Che è praticamente Un uvaggio Più o meno Libero Delle uve Che si può coltivare Sì Nella zona di colio E dopo c'è questo Nuovo movimento Di colio Di uve Otoctone Sono Due cose Che possono Vivere in simbiosi O secondo te Uno potrebbe essere Più importante E più spinto Dell'altro Dimmi Un'idea Allora guarda Il colio bianco Per come può essere Prodotto Nel nostro territorio In base a quello Che il disciplinare Dice E quello che tu Enunciavi Nella prima parte Quindi Colio bianco Può essere fatto Con qualunque varietà A disciplinare Ad esclusione Delle varietà aromatiche Certo Che possono essere Presente per una Percentuale massima E E diventa Come ti dicevo Io all'inizio La firma Del produttore Del produttore Del produttore Ok Diventa la firma Del produttore O meglio Diventa Il vino In cui Il produttore Riesce Ad esprimere Quella che A suo parere È la massima Espressione Del territorio Attraverso I vigneti Che lui Ha a disposizione Ok Il discorso Del collio Da uve Autoctone Quindi fatto Con i vitigni Tradizionali Friulano Ribolla E Malvasia È Una tipologia Di blend Che Molte Delle aziende Del territorio Hanno scelto All'interno Del contesto Che ti enunciavo Prima Ok Ora Non ti do Dei numeri Perché Non ho La certezza Di numeri Però Una elevata Percentuale Delle nostre aziende Fa il proprio Collio bianco Utilizzando Questi tre vitigni O due di questi tre In base al vigneti Che ha a disposizione Il progetto Del quale tu parli È un progetto Che è nato Da un paio Di Un gruppo Di produttori Che Crede Fermamente In questa tipologia In questa tipologia Di collio bianco E ha deciso Di dargli Una veste grafica Che li accomuni Sì E cade sempre sotto Collio bianco Però mi pare Giusto Perché la tipologia Di vino È la stessa È giusto È un vino Che è certificato Come collio bianco Loro hanno deciso Di esplicitare La scelta Dei vitigni Che hanno fatto Diversamente Da altre aziende Che lo fanno Allo stesso modo E hanno deciso Di non esplicitarla Sull'etichetta Certo Quindi sono due cose Che Cioè Una sta All'interno dell'altra Con una veste grafica Particolare Che questo gruppo Di produttori Ha scelto Ok Questo è Lo status quo Delle cose Poi ovviamente Il collio bianco È una cosa Su cui i nostri produttori Continuano a Ragionare Confrontarsi Per capire Eventualmente Se bisogna Prendere Delle strade diverse Se bisogna Riconsiderare Lo stato attuale Delle cose Nulla è scritto Con il sangue Per cui Poi si vedrà In futuro Come si evolvono Le cose Però La grande sfida Che io vedo Per questo L'ho parlato Con Con diversi Importatori E Persone Che promuovono I vini fuori Che I blend Sono fantastici Quando sono arrivato In Friuli I blend Erano I re Delle cose Tu avevi Il tuo vino top E dopo Avevi i tuoi Monovitigni Però Sono i vini Più difficili Da vendere Perché tu non hai Il nome di un'uva Sull'etichetta Tantissimi posti Nel mondo Stanno cercando Un vitigno Un'uva Un'uva Sull'etichetta Quando hai Coglio bianco Che cosa Come possiamo Superare Questa sfida Di Far conoscere Questi vini Che forse Sono i migliori Però I più difficili Da vendere Ma guarda Anche su questo Secondo me Tutto passa Attraverso La Conoscenza La formazione Attraverso Il farlo scoprire A mio parere Riguardo Al collio bianco Bisogna Forse Anche lì Implementare Un po' La comunicazione Che è stata fatta Negli ultimi anni Ok Facendo appunto Capire Che non è tanto Quello che c'è All'interno Della bottiglia Quindi magari Esimersi Dal raccontare Anche Quali vitigni Ci sono All'interno Ma questa È un'opinione Mia personale Non voglio Che poi Passi il concetto Che magari È una cosa Sulla quale Stiamo già Ragionando Appunto Parlare di questo vino Come L'espressione Del territorio Lasciando stare Appunto La ricetta Di ogni singolo Produttore Ma ponendo L'accento Sul fatto Che In una Degustazione In un assaggio Di un certo Numeri Un numero Di collio bianco Soprattutto se Gli si lascia Un po' di tempo Un paio d'anni Per riposare Quello che Salta fuori Immediatamente Non è tanto Un po' più Di friulano O qua c'è il Sauvignon Lì non c'è Ma è Un'espressione Veramente L'identità Del territorio Che si esprime Attraverso Ciò che Il nostro clima E il nostro suolo Ci danno Quindi questa Mineralità Quasi salina Che è comunque Una caratteristica Della ponca Che spicca Attraverso Una struttura Una struttura Importante Un corpo Importante Una complessità Che Un po' come Un collio bianco A me piace dire Che è una Una figura Poliedrica Quindi tu È come Assaggiare un calice Di collio bianco È come avere Un poliedro Di cristallo Fra le mani E vedere Tutti i diversi Riflessi di luce Tu lo guardi E hai una cosa Meravigliosa Che brilla Certo Però se vai a guardare Ogni piccola sfaccettatura Vedi una sfumatura Diversa di colore Bellissima Collio bianco È la stessa cosa Quindi è questo Che Bisognerebbe Far passare Allora A quel punto Tu Fai Uno step indietro Rispetto Al vitigno Specifico E quindi magari Ti sganci anche Da quello che dicevi Tu prima Del fatto di avere Un vitigno Un'uva Il nome di un'uva Sull'etichetta Entri Nel mistero Del territorio Ok In questa complessità Del territorio Per cui non è più Friulano Cioè non è soltanto Friulano Non è soltanto La combinazione Di Friulano E altro È collio Esatto È il vino del territorio Infatti Infatti Sei stata molto brava Perché io volevo Chiederti Ok ma Che cos'è La caratteristica Di collio Tu mi hai Risposto subito Senza neanche Fare la domanda Bravissima Bravissima Ok Voglio dire Una cosa Dei rossi Del collio Perché io Ho un problema Con collio Cosa sono Di collio Il rifosco Il rifosco Il pignolo Schioppettino Secondo me Lo so che La storia Di quella zona Però è sempre Questo il problema Che Io ho avuto Con collio Che ci sono Anche dei produttori Grandi Che fanno Dei vini Dei autoctoni Io posso Pensare Di due Subito Però Non si può Mettere Coglio Perché sono Fatti con Pignolo O con Refosco C'è un futuro Per gli autoctoni Ti dico la sincera Verità Ok Anche Allora Il consorzio Bisogna Fare una specifica Una premessa Doverosa Il consorzio Non è un'entità Esterna Rispetto alla realtà Produttiva Del territorio Il consorzio Fa ciò che L'assemblea Dei soci Chiede Al consorzio Di fare Per cui Le decisioni Il consorzio Sono le aziende E ti devo dire La verità Da che Almeno negli ultimi Cinque anni Da che ci sono io Non c'è mai stato Da parte delle aziende La richiesta Di inserire Altri vitigni rossi A disciplinare Nel momento In cui ci sarà L'interesse Da parte delle aziende Un interesse forte A modificare Il disciplinare Inserendo Dei nuovi vitigni O comunque Dei vitigni autoctoni Che già vengono coltivati Ovviamente Insomma L'assemblea La prenderà In considerazione Però Per il momento Non abbiamo avuto Richiesta di questo tipo Esatto Bello Questo è Assolutamente Accettabile Mi piace tantissimo Quello che ha detto Che Coglio Non è un consorzio Coglio Sono i produttori Ma è tutti i consorzi Sono questo Qualche volta Sembra appunto Il consorzio Il consorzio Il consorzio Non è un'entità Che lavora Sulla base Di qualche fantasia Che qualcuno All'interno dell'ufficio All'interno Del consiglio O esternamente Inserisce Il consorzio Fa ciò Che i produttori Ti chiedono Io Devo tenere in mente Quello Io devo Sì Perché Mi ha fatto Pensare di più Del mio percezione Di un consorzio Hai assolutamente Ragione Hai assolutamente Ragione Il futuro Cosa sono le cose Che possiamo Contare Del futuro Andando avanti Non lo so Si può anche parlare Del tuo sogno Nel cassetto Come chiedo sempre Ai produttori Cosa è già programmato Cosa ci piacerebbe Programmare Come consorzio Andando avanti Verso il futuro Allora Noi quest'anno Tu sai che festeggiamo 60 anni Quindi è un anno Importante Bene Perché è un anno In cui bisogna Necessariamente Guardare al passato E con rispetto Onorare Quello che è stato fatto In 60 anni Che non sono pochi Certo Ed è anche un anno In cui bisogna Soffermarsi E capire Che direzione Penale Per il futuro E io penso Come ti dicevo Prima Che in questo momento Nel territorio Ci sia Un grande fermento A livello Di anche Proprio ricambio Generazionale Aziendale E questo porterà Con sé Sicuramente Nel futuro Prossimo Un cambiamento Anche nell'approccio Che le aziende Hanno Ai mercati Alla promozione Alla comunicazione Quello che è Il mio sogno Penso da qui A 5-10 anni Quello che mi piacerebbe Che succedesse È riuscire A consolidare O a riconsolidare La posizione Del nostro brand Sui mercati In Italia E all'estero Proprio per quello Che dicevamo prima Che il bolino giallo Si riconosce Certo Però al di là Di riconoscerlo Forse Se si va un pochino A approfondire La conoscenza Di ciò che effettivamente È C'è ancora Tanta confusione Ok Quello che piacerebbe Succedesse Quello che a me Piacerebbe succedesse Nel futuro È riuscire a mettere Ordine In questa confusione A raccontare Il territorio E la denominazione Come è corretto Che sia A portare Una comunicazione Che sia univoca Che sia coerente Da parte nostra E da parte Di tutte le aziende Di modo da Portarsi Da presentarsi Come il territorio Unito che siamo Con degli obiettivi Comuni All'interno dei quali Ogni singola Realtà È rispettata Ed è valorizzata Quindi ognuno Ha libertà Di esprimersi All'interno Di un contesto Che è Un contesto Unito E coerente Bello Allora cosa fate Per questo Sessantesimo Anniversario Fai una grande festa Faremo tante cose Per questo anniversario Faremo tante cose L'anniversario esatto Della firma Dell'atto notarile Cade il 31 di maggio Ok Il 31 di maggio Ci sarà una giornata Una due giorni Dedicata esclusivamente Alla stampa Ok In occasione della quale Si terrà una masterclass Dedicata Soprattutto All'evoluzione Dei vini Negli anni Io conto come la stampa? Potrebbe essere Potrebbe essere Ok Scherzando Ci sarà una masterclass Dedicata appunto All'evoluzione Principalmente All'evoluzione Dei vini Quindi insomma Porteremo Dei vini Di annate Un pochino Più vecchie Per capire un po' Come si evolvono I vini Del coglio Con Con l'aging Che è un aspetto Molto importante Dei nostri vini Soprattutto Dei bianchi Ok Soprattutto dei bianchi Non perché i rossi Siano da meno Ma perché è una Delle poche realtà Dove i bianchi Effettivamente Hanno un potenziale Di longevità Di questo tipo Ok Ci sarà un convegno Dedicato Anche questo A capire un po' Come si è evoluto Il territorio Non soltanto Dal punto di vista Vitivinicolo Ma Dal punto di vista Della Correlazione Fra Vitivinicoltura E Territorio In generale Ok E Ci sarà Insomma Un'occasione Conviviale Bello Su invito Il giorno seguente Il primo di giugno E vi sarà La premiazione Del premio Collio Che ritorna Dopo un paio di anni Di stop Dovuto al covid L'ultima edizione Risale al 2019 Poi appunto Seguito A causa del covid E di altre cose L'abbiamo messo Un attimo In stand by Premio Collio Ok Premio Collio Che ritorna E Invece poi Ci sarà Una grande festa Per le aziende Dedicata alle aziende Nella seconda parte Dell'anno Quindi andremo A chiudere L'anno di festeggiamenti Probabilmente A novembre Ok Dopo la pandemia In data da definire Con una festa Per chi effettivamente Fa il compleanno Ovvero le nostre aziende Perfetto Perfetto Ok Spero di condividere Uno di questi eventi Un bicchiere con te Assolutamente Accoglio Ci so che abbiamo fatto Una bella chiacchierata Su tanti aspetti Sono d'accordo I principali Sono stati affrontati Io spero di essere riuscita A passare I messaggi Che ci stanno a cuore Bravissima Sei stata veramente bravissima Grazie tantissimo Grazie a te Grazie a te